Buongiorno Allora, questa maglietta me l'avete vista addosso in tantissime altre occasioni, ad esempio nel video di Reading per Flavia Vento e altri video che ho fatto. Se per le altre occasioni, per gli altri video, era più per uno spirito trash, in questo caso non potevo non metterla, perché siamo proprio nel fulcro dell'argomento. Mi sono vestito a tema, praticamente. Prima di andare al succo della questione, io vorrei puntare sul personaggio di Britney Spears. Una mia amica ha fatto un'analisi sociologica del personaggio, che secondo me ben si adatta alla sua funzione, perché è iniziata un'icona. Ha detto che praticamente Britney Spears rappresenta ciò che c'è di frivolo nell'essere femminili. E quindi uscire, farsi bella, andare in discoteca, cercando di rimorchiare ragazzi, poi non rimorchiarne nessuno e quindi piangere dalle amiche. Però Britney ha anche questo profondo, questa profonda introspezione, che vediamo ad esempio in I'm not a girl, I'm not yet a woman. Non sono più una ragazza, sono una donna. Non sono neanche una donna, anzi. Quindi quell'essere lì in mezzo, quell'essere lì con incapacità di comprendersi, di comprendere la propria funzione del mondo. Questo significa, quindi, una ragazza frivola, superficiale, ma dotata di grande profondità. Ed è quello, per quello è vincente, perché le ragazze si immedesimano in lei. E riesce anche a conquistare, cioè dicevo, nei periodi d'oro, riesce a conquistare anche una vasta fetta del pubblico maschile. Pensiamo a Toxic, che è la sua canzone fondamentale, la sua Bibbia, il videoclip. Nel videoclip lei si rappresenta vestita di perle, di diamanti, completamente nuda, no? Ed è la rappresentazione totale del proprio potere. E lì ci sono due strade. O sogni, una vita erotica con lei, o vuoi essere lei. E non c'è nessun'altra via da percorrere. Ed è interessante questa cosa, no? È interessante. Io la trovo un personaggio affascinante, perché Britney è punk, in verità. È un personaggio dark, a suo modo maledetto. Non è, nel suo essere frivolo, nasconde tanta disperazione. Pensiamo a quel tragico 2007, quando si è rasata i capelli, ha proclamato di essere l'anticristo, ha sentato il suicidio, poi è tornata più bionda che mai. Però nelle canzoni del post-distruzione, autodistruzione del 2007, quell'album Cardine, che è Blackout, vi è sempre questa depressione nel fondo, sotto le melodie frivole, che lascia quasi inebetiti. Pensiamo che ne so a If You See Kamey, pensiamo a Work Bitch, pensiamo, c'è questa depressione dell'essere famosi. Lei è una persona che non vuole essere famosa, ma che è famosa, in sostanza. Ed è interessante. Ma ora veniamo al momento veramente cupo della sua carriera. Il momento veramente cupo della sua carriera è Zan Zan. Il suo romanzo. Romanzo scritto a quattro mani con la madre, che si chiama La mia migliore amica. Titolo in inglese A Mother's Gift. Quindi il regalo di una madre. Io mi soffermerei sulla scelta grafica per l'edizione italiana. L'ho trovato in un mercatino dell'usato a un euro, non potevo non prenderlo, assolutamente. La forma grafica, la scelta grafica di questo romanzo, direi che è trasgressiva, in qualche modo. Non lo so, basta il retro copertina, penso. Con questi fiori, questa scelta della fotografia. Cioè, comunque, questo romanzo è stato scritto nel 2001. E Britney era ancora all'apice del successo a quegli anni. Era una ragazza bellissima, adorata, eccetera. Come fai a scegliere una foto del genere? Non lo so. Sembra una sciacquetta uscita da uomini e donne con la madre. È una foto molto amatoriale. Secondo me è per identificare questa intimità, questa incapacità dell'essere famosa, questo mostrarsi per come si è. È abbastanza sciatto, poi con i fiori tutti attorno, così. Ma come se non passasse, anche dentro ci sono dei fiori a scandire ogni capitolo. Ed sono quelle cose talmente spinte da farti un po' vergognare, anche se non dipendono da te. E visto che è un romanzo che lascia tanti spunti di riflessione, io sul Wreck This Journal, su cui farò una puntata, se vi interessa, quando sarà completato, ho segnato gli appunti. Gli appunti che mi sono fatto, se li ritrovo, riguardo a questo libro. Mentre li trovo, comunque, possiamo soffermarci sull'uscita del romanzo, che è del 2001. Perché è così importante quest'anno? Perché segna una svolta. Mio cugino la chiama la svolta unta di Britney Spears, e fa abbastanza ridere. La svolta dell'immagine più... eccola. Dell'immagine più sexy e trasgressiva di Britney. Prima era la fidanzatina d'America, no? Una ragazzetta che con movimenti ambigui, con canzoni ambigui, Hit me baby one more time, insomma, non lascia molto all'immaginazione. Si presentava però come la castità pura. la ragazza devota della porta accanto, che appena ha una valvola di sfogo, esce e mostra l'ombelico. Guarda che mostrare l'ombelico nel finale 90 era la cosa più trasgressiva del mondo. E lei mette in crisi milioni di ragazzine sul mostrare l'ombelico, perché non tutte possono farlo. Lei all'epoca poteva, adesso non un po' più. E l'anno di transizione è proprio il 2001, perché esce quella canzone, cioè proprio sudore, quella canzone sudore, che fa sudare, che I'm a slave for you. Io penso che nessuna pop star si sia mai andata in quegli, in quegli entri così torbidi, ma neanche la madonna di erotica, per dire. Britney dice proprio sono schiava per te. C'è questo videoclip dove lei è tutta sudata, che scatena quest'orgione in questo palazzo abbandonato. Però il rapporto col sesso, con la sessualità di Britney è un po' diversa dalle altre pop star, non lo so. Lei si è mostrata quasi sempre mezza nuda nei video, da qua in poi, ma esclusa forse mai Lee Cyrus, che però, che secondo me, per quanto la musica sia inascoltabile, ha una potenza quasi femminista, questo mettersi in mostra, decidere di parcare le soglie del buon gusto. Lo spogliarsi di Britney non è mai, mai, cioè almeno così penso, non è mai un sessualizzarsi barra eccitare, perché i video di Britney Spears sono di una surrealtà, sono surreali, sono grotteschi, e non è quello il primo pensiero che ti fai guardandoli. Pensiamo a Toxic, Toxic, dicevo prima, lei si mostra tutta vestita di diamanti, nuda, è così, tutte le parti del corpo più provocanti sono nascoste dai diamanti, ma quello è già grottesco però, così come lo è in Womanizer, no? Lei nuda nella sauna, però il video è talmente what the fuck che non ci pensi neanche, ed è così, è un modo di rappresentarsi quasi pulp, se vogliamo, abbastanza intrigante. E niente, io mi sono fatto degli appunti, allora partirei dalla trama, la trama è di una banalità sconcertante, allora è un romanzo, la protagonista si chiama Holly, ma io non posso chiamarla Britti, quando la chiamo Britti significa che mi sto riferendo al personaggio della storia. La nostra Britti è una ragazza povera, del sud, vive in Mississippi, con una madre a cui vuole un mondo di bene, questa madre ha mezza faccia tumefatta da una macchia rossa. Britti ovviamente è, si capisce sin da subito che è l'alter ego di Brittany, si capisce subito che vi è un immedesimarsi quasi viscerale, ed è una ragazza che canta da Dio. A me ha fatto molto ridere perché questa ragazza canterina viene spacciata come una, novella Whitney Houston. Viene proprio detto che caga in testa Whitney Houston, Celine Dion, eccetera. Allora, a me non piace quel genere di musica, però non si può certo dire che Brittany abbia un'estensione vocale così travolgente, insomma, dire che è Whitney che caga in testa a Brittany, ma dieci volte, però fa niente, insomma. Lei ama cantare, lei e la madre guardano questo programma, poi mi ha fatto molto ridere perché lei bidona il suo fidanzatino per vedere il programma televisivo con la madre che è tipo una sorta di talent, un poporaccio su degli studenti che fanno parte di questa prestigiosa scuola di musica super costosa dove ci vanno le persone snob. e lei vorrebbe tanto andare in questa scuola fino a che il fidanzatino la registra di nascosto mentre canta manda questa registrazione alla scuola e la scuola le dà una borsa di studio per poter entrare e lei viene subito immessa in questo sfarfallio di glitter perché tutte le sue compagne di classe sono tutte provocanti con gli hot pants, con le magliette, con le paillette, gli uomini guidano le Ferrari così insomma. Viene introdotta in questo mondo e lei ne viene assue fatta in sostanza e perdendo un po' il rapporto con la madre che verso la fine si salda diciamo in un lieto fine di cui ve ne parlerò dopo perché è scandaloso. Inizierei subito con la rappresentazione deviata della povertà. Allora è chiaro che il libro è scritto da una persona ricca. Britney è ricca lo sa anche lei per quanto non le faccia piacere per carità dammi i tuoi soldi e Britney ti lascia un mio IBAN però c'è una rappresentazione deviata della povertà perché secondo me per il tipo di personaggio che viene qui rappresentato Britney che è Holly ricordiamocelo sembra una ragazza normale nel senso non sembra povera anche per il lavoro che fa sua madre non mi sembra cioè la madre fa tipo sarta professionista eccetera non mi sembra una famiglia anche perché sono solo loro due che vive distenti il problema è che essendo scritto da una persona ricca questo romanzo vengono presentate come delle barbone praticamente c'è una scena imbarazzante come viene descritta la cameretta di Britti e nella cameretta di Britti assolutamente vuota c'è un letto senza le lenzuola e una radio sveglia punto io non credo penso che ci sanno famiglie ancora meno abbienti di quella qui rappresentata che è un armadio se lo possono permettere in sostanza secondo viene proprio la piccola fiammiferaia ecco mi ha fatto molto ridere mi ha ricordato la piccola fiammiferaia che sta lì a prendere il freddo in posizione fetale aspettando la morte ecco la stessa cosa ovviamente è la madre che fa i vestiti a Britti e sono dei vestiti imbarazzanti vengono descritti sono imbarazzanti infatti se ne imbarazza anche lei e e niente c'è questa rappresentazione che mi ha un po' lasciato scioccato la scrittura io penso che sia il libro peggio scritto che abbia mai letto cioè bastano le prime dieci pagine in cui non si riesce a fare una frase cioè una frase cioè solo la la principale le subordinate non esistono mai mai tu puoi dire magari è uno stile di scrittura minimale semplice no non esistono mai perché non sanno fare le subordinate lei e sua madre ma la cosa peggiore è che secondo me Britney che dicevo prima è un personaggio punk sotto sotto un personaggio trasgressivo sotto sotto vi ha una rappresentazione ed è l'anno del 2001 non l'ha scritto nel 99 è 2001 vi ha una rappresentazione casta di tutto è come un allegato di famiglia cristiana questo romanzo veramente sembra un allegato di famiglia cristiana perché al di là del fatto che il personaggio principale ragazzina di 14 anni sembra che la sua massima aspirazione la sua massima hobby la sua massima gioia è andare in chiesa ora sicuramente ci saranno delle persone 14 anni devote non lo so a parte che è il periodo in cui ti fai i dubbi però non lo so magari ci sono persone di 14 anni estremamente devote ma io dubito altamente che la massima la massima cosa che ti fa di fare è andare in chiesa cioè non ci credo a 14 anni soprattutto vabbè fa niente quindi c'è lei che non vede l'ora di andare in chiesa si mette in tiro per andare in chiesa eccetera per tutto il romanzo cioè proprio vuole andare in chiesa e poi c'è una rappresentazione casta dell'amore va bene che hanno 14 anni e ha un senso però non posso non scioccarmi di fronte alla rappresentazione della relazione che ha col suo fidanzato sta insieme al suo fidanzato da un sacco di tempo pare e viene descritto il loro rapporto come estremamente platonico quasi cioè completamente casto ora sicuramente il rapporto sessuale si può lasciare via il problema è che si baciano sulle guance stanno insieme da mesi 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 anni e il massimo contatto fisico che hanno è un bacio sulla guancia e io sono rimasto abbastanza inebetito davanti a questa cosa oltretutto lui è ovviamente il più figo del paese questo paesello sfigato nel Mississippi e a lui va assolutamente bene il bacio sulla guancia giustamente l'ho trovato poco credibile quanto mai divertente oltretutto c'è una rappresentazione una critica sociale a quelle ragazze che invece si lanciano e mostrano il loro potere sessuale perché ci sono delle amiche cioè una in particolare che è quella che conosce a scuola che passano da fidanzato in fidanzato hanno già le loro esperienze 14 anni un po' presto però hanno già le loro esperienze e sono più disinibite ecco tutte queste persone si scopre che hanno dei traumi o delle depressioni interiori o sono completamente infelici ed è per quello che troieggiano in sostanza mi ha fatto molto ridere perché sembra veramente un legato di famiglia cristiana da questo punto di vista così come è molto da famiglia cristiana il rapporto che c'è con la madre il rapporto che c'è con la madre vi è dio in ogni cosa non c'è nulla di concreto nel loro rapporto non c'è un amore concreto non c'è neanche una rappresentazione del litigio del conflitto il conflitto qui che vi è è l'imbarazzo ok ci può stare c'è sicuramente l'imbarazzo dei figli per i genitori quando raggiungono una certa età il problema è che è tutto molto soft ovattato molto un dire non dire come se fosse un tabù e poi ci sono degli imbarazzanti stralci di diario della madre in cui invoca dio invoca la madonna eccetera e ho detto ma perché oltretutto la scrittura potremmo definirla quasi sperimentale perché è sperimentale perché non si capisce qual è il narratore è un narratore onnisciente di terza persona che a volte diventa un narratore in prima persona cioè dal punto di vista di britti ma allo stesso tempo diventa un narratore di prima persona negli stralci di diario quando vi è il punto di vista della madre quindi sì è una scrittura schizofrenica una scrittura sicuramente all'avanguardia poco chiara insomma britney a quattro ottave ho scritto britney a quattro ottave caga in testa a whitney houston ma arriverai direttamente probabilmente al colpo di scena shock shock e ho detto non è vero l'ho lanciato fuori dalla finestra sto libro per quanto ne voglia bene come personaggio la britney però c'è questo colpo di scena shock perché allora ricordate che la madre ha una faccia tumefatta metà faccia tumefatta ecco alla fine si scopre che la nostra la nostra britti scopre che sua madre non è sua madre ho fatto lo spoiler vabbè leggetelo comunque perché è un bel viaggione nei meandri del cattivo gusto scopre che sua madre non è sua madre perché perché ha scoppiato questo incendio in città la sua madre la sua madre adottiva stava passeggiando per le vie della città e c'è questo incendio c'è questa tizia carbonizzata che urla salvate mia figlia salvate mia figlia e allora lei giustamente si precipita e trova questa allora tutto in fiamme tutto fuoco tranne cioè a me è veramente ricordato la figura di Gesù un miracolo cristiano questa cosa perché è tutto in fiamme però attorno a questa culla non c'è nulla non c'è il fuoco è lì e c'è questa bambina dormiente in una cesta di vimini quindi anche lì con la fiammiferaia sin dall'inizio Mosè mi è venuto in mente lei che entra la porta con sé e si brucia la faccia per salvarla ma lei è contenta di quella e lì ammetto che la lacrimuccia è scesa perché lei è contenta di questa tumefazione perché le ricorda il giorno più bello della sua vita ovvero quando ha conosciuto sua figlia ha detto vabbè dai ci sta a parte lo shock questa cosa tragica pseudo biblica dell'apocalisse con l'eletta che diventerà la nuova messia ecco come finisce il libro devo dire che il libro finisce peggio di quanto mi aspettassi io davo per scontato che lei diventasse una pop star famosa alla fine o comunque che raggiungesse il successo una roba tipo crossroads il film con Britney no invece no nel finale lei riesce ad andare in televisione ha quel talent lì per poracci canta questa canzone dedicata alla madre non mi ricordo qual è non mi ricordo il titolo penso che sia una roba tipo d'amore boh canta questa cosa ovviamente tra tutti applausi il presentatore che dice sia la migliore che sia mai salita su questo palco eccetera eccetera e ovviamente la dedica alla madre però è un continua Britti continua ad andare su questo argomento quando è in televisione capisco la tragedia che ha scoperto eccetera però mi sembra una roba talmente melensa talmente poco credibile no la invita sul palco abbracci baci eccetera oh mio dio sì talmente ridicola quasi nel suo essere melenso nel suo essere perbenista che io ero allibito veramente allibito e non vi è un post non vi è un dopo non sappiamo cosa succede dopo i personaggi si conclude lì tra lacrime e bacetti tra luce e vino niente questo è il romanzo io non so che altro dire sto cercando di vedere altri punti che ho trovato ma ce ne sono veramente pochi perché è un libro molto melenso mi aspettavo più trash probabilmente mi aspettavo molto più trash c'è cose veramente insostenibili ma non ci sono è un romanzetto che scorre liscio come l'olio nella tragedia dei cliché dei luoghi comuni nella scrittura madonna la scrittura bisognerebbe leggere dei passaggi ma siamo veramente a livelli sciocchi però oltre il danno alla beffa perché c'è una cosfazione in cui si parla del British Spears Foundation ed è questa associazione che la Britney ha fondato però cos'è che fa questa associazione? è un'associazione che non è che aiuta in prima persona le persone i ragazzi perché dovrebbe aiutare dei ragazzi con il talento musicale che non hanno soldi per permettersi una scuola e allora lei aiuta da borse di studio eccetera no non gli aiuta in prima persona è un'associazione che aiuta la fondazione di associazioni per aiutare questi ragazzi l'utilità avrebbe molto più senso una donazione diretta lei che è ricca da non lo so due milioni di dollari ad associazioni già esistenti perché fondare un'associazione che fonda altre associazioni mi sembra un po' un casino e questo penso che sia la cosa più trash del libro perché per il resto anche per il target secondo me si va bene per il target che ha oddio però penso che tutta questa questo bigottismo questo paolottismo irregnante a meno che una ragazza non sia veramente di quel tipo cioè ragazza del sud 7th heaven non crea nessun appeal non le crea nessun appeal infatti la persona che l'aveva avuto come di me voglio pensare che sia una 14enne fan di Britney ha venduto il romanzo a mercatopoli fermandosi a pagina 13 perché qua c'è il segnetto mentre io non ho letto tutto dunfiato ci vuole veramente mezz'ora per leggerlo e direi che non lo so non è un'esperienza che cambia la vita però se lo trovate potete dire di averlo letto come l'ho letto io e concluderei il video con il retro copertina visto da vicino che è qualcosa di veramente spaziale e vi saluto